Una vendetta sentimentale e un avvertimento per mantenere controllo del territorio. Sarebbero questi i motivi alla base degli attentati incendiari compiuti nei mesi scorsi a Cassino. Ci sono diversi indizi raccolti dagli investigatori della squadra mobile di Frosinone ed è commissariato cittadino. Le indagini erano in corso dalla primavera, quando una potente bomba a carte era esplosa sul davanzale di un appartamento popolare in via Vincenzo Grosso nella notte tra 6 e 7 maggio. La notte successiva esplosa un'altra bomba a carta, piazzata sopra un'auto parcheggiata in città. Il giovedì notte, poi, gli attentatori hanno preso di mira la pizzeria Arcobaleno, su via Gaetano di Biasio, nel quartiere Colosseo. Le indagini hanno poi evidenziato che le due vittime avevano frequentato la stessa donna e lei aveva da poco troncato la sua relazione con un uomo. Le indagini hanno puntato sull'ex della donna e un suo amico. Dopo mesi di accertamenti e verifiche, sempre più dettagliate, la procura ha ricostruito la vicenda, dietro la quale fa da sfondo il mercato cittadino della droga. Si sospetta, dunque, che questi ordini dovessero servire a mandare un segnale agli ambienti dello spaccio.